Ci sono bambini che anche soltanto per un istante immaginano di essere qualcun altro Un uccello per volare liberamente nel cielo Un pesce per nuotare nel mare buono Un cavallo per correre con la criniera al vento C'è chi invece come Geremia sogna di essere una tigre Il fatto strano però è che Geremia non è affatto un bambino Geremia è un gatto E non un gatto comune Lui è un sognatore Grazie a tutti